Voga 2015, giorno 2. L'argomento di oggi è «Vestito elegante o comodo» ed è un argomento eccezionale da discutere mentre sono in smanicato e costume da bagno, sicuramente. Allora, scherzi a parte, io per il lavoro che faccio dato che spesso sono costretto a infilarmi sotto i tavoli, seguire cavi nelle postazioni più assurde, generalmente tendo a scegliere la comodità sopra l'eleganza. Nei miei abiti da lavoro cerco di fare il più possibile per essere soprattutto comodo. Però c'ho due abitudini, la prima abitudine è sicuramente quella che tengo di più in inverno, perché in estate c'è troppo caldo per farla, ma ce l'ho da molto tempo. Il venerdì per me, anziché essere il casual friday, è il tie day, il giorno della cravatta. Io, generalmente in inverno, quando vado a lavorare, nel periodo freddo, metto il venerdì la cravatta. Non necessariamente giacca e cravatta, perché io comunque metto la cravatta anche eventualmente sulle maniche corte e sui jeans, che è una cosa abbastanza diffusa in realtà, per dare un po' anche un'apparvenza d'immagine. Mi piace quando capita nelle occasioni un po' più, diciamo, d'abito scuro, magari indossare la giacca e cravatta, ma preferisco comunque generalmente scegliere la comodità sopra l'eleganza. Quanto meno questo è quello che penso io. E voi cosa preferite? L'abito comodo o l'abito elegante? Fatemelo sapere con un commento qua sotto, e infine non dimenticate di iscrivervi, di fare like e di condividere questo vlog. Bene, questo era il giorno 2 del vlog 2015, io sono Grizzly, noi ci vediamo domani con il prossimo vlog. Ciao a tutti! Ciao a tutti!